La vicenda, portata alla luce all'alba di questo mercoledì 23 febbraio a seguito di due anni di indagini, ha scosso nuovamente la Valle Camonica. Il sindaco di Berzodemo, Giovanni Battista Bernardi, responsabile del settore tecnico manutentivo e patrimonio comunale, sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di appalti pilotati. Una notizia che ha diviso l'opinione pubblica e sulla quale è intervenuto anche l'assessore regionale al bilancio Davide Caparini, che ai nostri microfoni ha espresso la sua piena solidarietà nei confronti degli amministratori camoni. Un fulmine a ciel sereno, io credo sempre nella buona fede, nella capacità dei singoli amministratori di fare il bene della propria comunità e in questo senso il sindaco di Berzodemo ha avuto modo in questi anni di conoscerlo per quanto riguarda lo sviluppo della zona di Forno da Lione, che è una zona martoriata per questioni ambientali, per le tantissime difficoltà di riuscire a realizzare quello che noi tutti speriamo, ovvero la messa di sicurezza del territorio e la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di quell'area che purtroppo dal passato ci è stata consegnata così inquinata, martoriata, sotto tanti punti di vista difficilissima da affrontare. Io auspico, auguro che tutto si risolva nel più breve tempo possibile, che venga ripristinata la verità, che si chiarisca tutto come tantissime volte accade, perché poi in Valle Camonica abbiamo avuto anche in passato tanti casi per cui poi dai titoli roboanti, dei giornali, delle agenzie, poi abbiamo verificato che oltre ad esserci tantissima buona fede, assolutamente nulla è accaduto e spero che anche questo sia uno di quei casi.